Lo sono andato a prendere nella sua abitazione in zona Flaminio questa mattina di buon'ora gli uomini del commissariato di Fano in collaborazione con i poliziotti di Portici coordinati dal dirigente Stefano Seretti. È un 36enne di Napoli ma residente in città da diversi anni, sospetto appartenente all'organizzazione di stampo camorristico dei Vollaro, operante nella zona di Portici a Napoli. È accusato di essere l'autore, insieme ad altri sei complici, di un omicidio avvenuto a Portici nel 2004. La misura è stata eseguita in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. L'arresto è stato eseguito dopo lunghe ed elaborate indagini sotto il coordinamento della DDA. Il 36enne era ben noto agli uomini del commissariato di Fano che lo conoscevano per la sua vicinanza al potente clan camorristico, oltre che per altre misure eseguite nei suoi confronti per reati pregressi nella sua zona di origine e per altri commessi in loco legati al piccolo spaccio di stupefacenti. L'arresto a Fano è un tassello di una più vasta operazione eseguita a carico di presunti capi e affiliati al clan Vollaro perché ritenuti gravemente indiziati di porto, detenzione di arma, spari in luogo pubblico, ricettazione e omicidio premeditato in concorso tra loro e aggravato dal metodo mafioso. Il 36enne arrestato a Fano si era trasferito da circa un decennio e si rabattava con saltuari lavori da operaio. I fatti per cui è stato arrestato risalgono a maggio del 2004 quando nell'area mercantile di Portici ci fu una sparatoria dove rimase ucciso Giuseppe Iacone mentre un'altra persona se la cavò con 10 giorni di prognosi per ferite al fianco destro. Le indagini successive dirette dalla DDA ed eseguite dal commissariato di Portici hanno consentito nel corso degli anni di raccogliere gravi indizi probatori a carico degli arrestati, indizi ritenuti validi dal GIP del Tribunale di Napoli che ha così emesso l'ordinanza di arresto eseguita quest'oggi.